Luigi Trani, nuova emergenza sangue in Campania, in modo particolare il Cardarelli a fare un appello? Allora, l'appello viene dal Cardarelli e l'emergenza sangue è grave, perché il Cardarelli è l'ospedale che assiste a più malati della regione Campania e due terzi del fabbisogno del sangue della regione è soddisfatto dal Cardarelli per le esigenze del Cardarelli. Quindi il Cardarelli ha esigenze maggiori, ma questa carenza è una carenza che sta in tutta Italia e si sta protraendo ormai da un anno. Adesso la situazione è più grave del solito, quindi occorre organizzarci, occorre fare delle donazioni straordinarie, perché così come vanno le cose non possono andare e l'ospedale continua a chiamarci per richiedere donatori. Come pensate di organizzarvi per poter avere a disposizione qualche sacca di sangue in più? Allora, noi abbiamo in programma già quattro donazioni, da partire dal giorno 18, da domenica 18. Cercheremo di sondare il terreno e vedere se riusciamo ad organizzare una donazione straordinaria anche per il giorno 11. Quindi chiedo a tutti, quelli che sono in buona salute, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, che non facciano terapie farmacologiche o comunque nel caso in cui facciano terapie farmacologiche, di farci sapere che tipi di farmaci prendono, per poter capire se possono donare, di iscriversi alla pagina Facebook di Donatori di Sangue Fida, Sischia, Isola Dischia, e di contattarci in questo modo da poter vedere se riusciamo ad organizzare una donazione straordinaria. Questo chiaramente entro domani. Entro domani dobbiamo comunicare poi a chi di dovere se noi effettueremo una donazione straordinaria domenica. Ricordo che le donazioni le stiamo effettuando al polifunzionale, la sala teatro che sta a Dischia. Oltre ai residenti potrebbero donare anche i turisti, semmai coloro che sono degli abituati delle donazioni? Possono donare tutti, possono donare tutti, l'importante è che si sta in buona salute, questo è il criterio principale. Un appello in chiusura affinché ci si prenoti in modo da capire se poter organizzare qualche giornata di donazione straordinaria in più? Sì, l'appello, la prenotazione per noi è fondamentale, fondamentale per capire che potenzialità abbiamo. Quindi chiediamo a tutti quelli che vogliono darci una mano, a tutte quelle persone che sono sensibili, che si rendono conto della gravità del momento di contattarci e di darci pronta risposta.